In questo momento abbiamo un'ospitona, un'ospitona che se vi volete, se dovete per favore, so che a quest'ora poi dovete entrare in ufficio e vi prendete il pezzo e potete andare a rimpescare direttamente da Parigi. Buongiorno Alessabella. Buongiorno a tutti. Buongiorno. Allora, paralimpica del nuoto, giusto? Esatto. Ok. Allora, io leggo il tuo palmarès. Partiamo dal basso. Un oro agli europei, giusto? Sì. Cinque argenti agli europei. Otto bronze agli europei. Poi saliamo di livello. Un argento ai mondiali e due bronze mondiali e un argento a Tokyo 2020. Sì. E una medaglia di legno a Parigi, però non me l'hanno data. Non te l'hanno data. Pensano di darla. Sentivo questa cosa che pensavano di dare anche quella. Beh, perché anche nelle Paralimpiadi abbiamo tenuto il nostro record di quarti posti. Siamo riusciti a fare una marea di quarti posti che dovrebbero darci un premio solo per quello. Esatto. Tra parentesi, ho visto le due finali. Due finali, hai fatto giusto? Una delle due praticamente di niente. Di quanto? Niente. La parola niente è più lunga del tempo che ci voleva per toccare quel maledetto bordo della vasca. Esatto. Però com'è stata? Com'è stata l'esperienza? È già la terza che faccio eppure ogni volta è come se fosse la prima. C'è stato Rio dove davvero era la prima volta, quindi non sapevo cosa aspettarmi ed è stata tutta una balia, un'onda di emozioni. Tokyo è stata particolare perché c'era tutta la questione Covid senza pubblico. Mentre Parigi si è tornato col pubblico, dopo otto anni da Rio, quindi con un atteggiamento più maturo e tutto, eppure è successo che le aspettative hanno prestato parecchio e poi le disillusioni sono state un po' grandi. Sì, brucia ancora? Eh, beh sì. Anche perché noi siamo tornati il 9 settembre, quindi neanche un mese. Praticamente ieri siete tornati. Categoria S13, la tua medaglia Tokyo, giusto? Ok. Quest'anno invece hai fatto le finali di? Sempre S13? No, S12? No, io sono S12. Allora, nel Paralimpico... Sabe che volevo arrivare a quello? Nel senso che le Paralimpiadi ormai le seguiamo praticamente tutti, cioè finalmente per fortuna. Anche grazie al Comitato Paralimpico ha fatto un lavoro pazzesco. Dopo Londra si è aperto tantissimo a questa voglia anche di seguire questi spot, però a volte è incomprensibile, perché c'è queste categorie che non si capiscono. Allora, tu sei S12? S12. Cosa significa? Significa che nel mondo Paralimpico del nuoto ci sono 13 categorie in totali. S sta per Sporting Class Swimming. Ok. Dalla classe S1 all'S10 sono le disabilità fisiche. Dove S10 hai più funzionalità, perché si parla di funzionalità, non di disabilità. Quindi quello che uno può usare può... È interessante, cioè non è quello che non può usare, è quello che può usare. Esatto, le abilità che ha. Già si ribalta il paradigma, no? Esatto, e questo è molto importante. Mentre nelle categorie S11, 12 e 13 sono quelle dedicate alla disabilità sensoriale, in questo caso quella visiva. Dove S11 sono le persone completamente non vedenti, S12 che ci vede un po' di più, S13 ci vede ancora di più. Nel 2015 quando sono entrata in nazionale era S13, poi purtroppo la malattia è degenerativa, quindi ora sono 12. Oh, chiarissimo, chiarissimo. Ma a Tokyo ho gareggiato e anche quest'anno in due gare su quattro le ho fatte con le S13, perché chi è da categoria inferiore può entrare nelle gare di categoria superiore. Il contrario ovviamente non è giusto. Ah, giusto, giusto, giusto. Quindi in realtà hai fatto una gara con quelle che ci vedono un po' meglio di te. Scusami se devo semplificare, no? Tra parentesi, stamattina mentre facevo la doccia, che è l'unico momento in cui sono sotto l'acqua io, quindi non sono un grande nuotatore, pensavo però a come già entrare nell'acqua ti priva di alcuni sensi, no? E io do, affido tutto alla mia vista a quel punto, nel senso che lì è molto difficile. Come fate a capire, a muovervi, a arrivare? Tra parentesi, quest'anno poi è stato anche molto interessante vedere la comunicazione della Paralimpiade, no? Molto comica anche in certi momenti, anche spensierata diciamo. Ma appunto questa privazione di alcuni sensi e altri che non puoi sfruttare al massimo. Sì, veramente l'acqua è un elemento molto particolare che non troviamo da nessuna parte durante il giorno, a meno che tu non vada in piscina o al mare. È proprio un buttarsi. Nel vero senso della parola. Esatto, però la sensazione che ti dà è impressionante perché tu senti il tuo corpo in ogni momento dov'è, mentre con l'aria è un po' diverso, lo percepisci di meno. Ovviamente l'udito e il tatto vengono meno, però la sensazione proprio di libertà contenuta che ti dà l'acqua è qualcosa di bellissimo. Chiarissimo, allora adesso rimandi qui con noi perché adesso andiamo con un po' un'altra canzone, i Depeche Mode, e poi torniamo ancora qui a parlare perché sono curiosissimo sulle Paralimpiadi, sono veramente stracurioso, voglio sapere tutto quello che è successo a Parigi, anche sapere la mensa che molti giorni, voglio capire se la vostra mensa era meglio di quella degli Olimpionici, perché magari l'hanno migliorata poi in quelle due settimane, no? No, no, ecco, ci ha già detto di no. E questo è il Depeche Mode, My Favorite Stranger, 8 e 16 minuti, 331-78-535-555, il nostro numero di Whatsapp, scriveteci anche se avete qualche domanda per Alessia. Alessia Berra qui con noi, paralimpica appunto di ritorno da poco, da quella di Parigi, un mesetto neanche, quasi neanche meno di un mese che siete tornati, c'è ancora l'aria di baguette nel naso, no? Come funziona? Come è andata allora questa esperienza? Dai, mi dicevi, sempre emozionante immagino qualcosa di... Sì, sì, parecchio emozionante, poi avere soprattutto degli atleti francesi in batteria o in finale, era bellissimo perché se tu provi a chiudere gli occhi c'era di fianco, a sinistra che partiva il coro e poi si espandeva tutto lo stadio, che tra l'altro la piscina è stata costruita in uno stadio da rugby, quindi era impressionante la quantità di spettatori che c'erano, sempre pieno, è stato bellissimo proprio. Non hai potuto fare una cerimonia d'apertura però, previ una gara il giorno dopo. Sì, è già la terza volta che succede. Però, adesso, comitato paralimpico, allora, adesso, fate un turnover, cioè quando, cioè alla terza Olimpia non ce la fa, adesso alla quarta cerchiamo di fare in modo di metterli due giorni dopo almeno la gara, cioè... Eh sì, beh, qua... Facciamo un appello. Il programma gare è molto complicato, è molto lungo perché noi del nuoto siamo gli unici a partire il primo giorno e a finire l'ultimo giorno con le gare. Quindi due settimane interrotte di gare ci sono praticamente, no? Esatto, esatto. Mamma mia, mi dicevi quante categorie ci sono solo per il nuoto? Tredici. Tredici categorie, insomma, capisci che sono tante tante le discipline. Anzi, a proposito, allora, la domanda che tutt'Italia si sta ponendo in questo momento, tu fai farfalla, giusto anche? Sì, esatto. Qual è la differenza tra farfalla e delfino? Eh, è solo il nome. Ecco, io lo dicevo ai miei amici che era così, però dicevano... A livello internazionale si dice butterfly, o in spagnolo mariposa, o così, o papillon in francese, e noi delfino. Vabbè, abbiamo un'idea strana degli animali, evidentemente, ok? Invece vuoi capire un po' come si diventa un'atleta paralimpica. Tu a che età hai iniziato e quando invece hai scoperto il mondo paralimpico? Io ho iniziato a fare le gare nel 2001, quando avevo 7-8 anni, e ho continuato a fare i corsi di nuoto, cioè, prima ho fatto i corsi di nuoto, poi sono entrata nell'agonismo, le volte a settimana in cui mi allenavo da 3 sono diventate 4, 5, 6, poi inizio alle palestre, e quindi fino ai 20 anni ho nuotato in una squadra di normodotati, tranquillamente, nel mio paese, nell'Azzurra di Buccinasco. Ah, sì, saluti a Buccinasco, l'opposito. Ciao. E poi, a 20 anni, ho scoperto da sola, per altri motivi, perché volevo fare un corso da istruttore per ragazzini con disabilità, allora mi sono interessato, ho scoperto la federazione e ho buttato lì. Ma io ho anche questo problema di vista, non è che magari esista una categoria, e lì ho conosciuto un allenatore che proprio mi ha buttato in acqua, e da lì è iniziata la mia carriera da paralimpica. All'inizio è stato un po' strano arrivare in questo mondo, perché, come tutti pensiamo, la disabilità è quello col bastone o è quello in carrozzina. Ok. Mentre io, che ci vedo un po', quindi adesso ho iniziato a usare il bastone, però prima non lo usavo, dicevo, io non sono come loro, cosa ci faccio qui? E poi si capisce che disabilità significa essere in una condizione diversa dagli altri, una condizione di svantaggio rispetto alla maggioranza. Ok. E quello era vero, quindi ho iniziato ad accettare e a iniziare questo percorso. Non deve essere facile quel momento in cui devi fare quel passo di accettazione, in un certo senso. Il giorno prima sei quella che ci vede poco, diciamo, il giorno dopo invece sei una disabile, ti viene detto così, no? Sì, che io la parola ipovedenza non sapevo neanche che esistesse e infatti io ho sempre detto, ah ho un problema di vista e poi ho scoperto che invece addirittura era una disabilità. Questo però è solo una parola che però a livello sociale proprio ti etichetta e tutta questa storia la sto scrivendo. Ah, bene. Sì, infatti per tanti anni ho indossato una maschera proprio per non far vedere questo problema, questo difetto, ingegnandomi, facendo di tutto per… Per non far vedere che c'era questa piccola diversità, questa piccola… Eppure è una mia caratteristica come uno è celiaco, come uno è basso… Ma segni particolari, no? Come si chiede una volta sui segni particolari, ho questa roba qua, appunto. Che non sei solo quella roba lì però anche, no? Il rischio è quello poi, però stare attenti anche a non diventare la propria disabilità poi spesso volentieri, no? Perché c'è un po' questo rischio a volte. Sì, sì, perché poi l'atteggiamento che uno ha fa tutto, se la prendi come caratteristica è parte di te o se la prendi come un vittimismo, succedono tutte a me, quello è un'altra cosa. Non deve essere però facile tutti i giorni, no? Sì. È un lavoro complicato? No, è che oltre a tutti gli sbattimenti delle persone comuni, ti svegli e ci vedi poco e fai cadere l'acqua e fai cadere il bicchiere e non vedi le cose e ci vai a sbattere. Quindi questo dà un po' fastidio, però ci convivi, ti metti l'anima in pace e sai che è così e ci fai su una risata. Ecco, soprattutto la grande risata si farebbe se ci mettiamo in piscina io e te insieme e vediamo lì poi chi è il disabile davvero, perché insomma lì il rischio è che non arrivi neanche a metà piscina io. Quindi te lo dico, il rischio è quello lì. A meno che metti vicino al bordo, allora lì posso barare un attimino, ma insomma. Dai, ognuno il suo. Ognuno il suo. Il tuo è quello che ti ha portato a fare ben tre Olimpiadi, tre Paralimpiadi, giusto? Siamo già in visione della quarta, si può pensare di farla, non so come funziona con l'età, perché poi sai questa roba qua. Quando finisco una gara c'è sempre la voglia di fare di più, sembra che il lavoro che hai fatto non sia mai abbastanza. Quindi rimane sempre questa voglia, questa fame di dire cavolo allora ci devo riprovare. E quindi ci riproverai dai sicuramente. Tananai, Annalisa con Storie Brevi e poi torniamo sempre qui con Alessia Berra. Tananai, Annalisa, Storie Brevi. Invece non è breve la carriera paralimpica di Alessia Berra, a cui facciamo tanti auguri anche per il futuro della carriera, ci mancherebbe. Ma abbiamo pochi minuti nella pubblicità, quindi la domanda, l'altra, Delfino e Farfana l'abbiamo capito. Invece l'altra domanda che sono tutti è questa famosa mensa del villaggio olimpico di Parigi, com'era? Allora, sicuramente era un po' meno fornita, sia di quella di Tokyo che di quella di Rio. Io gli ultimi giorni avevo fame, ma non avevo proprio voglia di entrare in quel posto. Sì, sì, è stato un po' strano, soprattutto per me che mangio come un bue. No, ma anche perché insomma è fondamentale poi l'alimentazione per chi fa appunto uno sport a quei livelli poi. Sì, sì, tre settimane sono tante, poi scegli sempre cosa mangiare, cose diverse, però alla fine quello che ti piace sono sempre le stesse. Sì, e non è che può uscire andare da McDonald's come facciamo noi, quindi non è così facile farlo. Ma voi potete uscire dal villaggio olimpico quando volete come volete o come funziona? Sì, questa volta sì, bastava chiedere il permesso al CT e si poteva uscire. Quanti eravate voi del nuoto più o meno? 28 in nazionale. 28 in nazionale, bene dai. Com'è andata nel complesso il team? È andata benissimo, su 28 in 24 hanno portato a casa i metalli. Ma però... Sì, sì, sì. Siamo una grande squadra e quasi ti senti in difetto quando non arrivi a podio, perché dici cavolo sembra così facile, ma non lo è, ogni gara sono veramente dei fenomeni i miei compagni. Sì, ma anche adesso lo stai facendo troppo la gentile con i tuoi compagni, anche tu non sei un gran fenomeno, ma insomma ricordiamo che c'è questo, aspetta, sentite, ecco questa è la differenza che c'è stata tra il tuo tocco e il tocco di quell'altra, più o meno, no? Questo, cioè così, ecco non di più. Capite che qualcosa, 10 centesimi, una cosa del genere mi sembra di aver visto, 10 centesimi, niente, c'è una macchina in Formula 1, la differenza che ci sono delle macchine in Formula 1, ecco, erano invece i cento... che disciplina erano? Allora, i cento stile, sono dove sono andata più vicine. Più vicine, i cento stile. Una canzoncina adesso, ce l'ascoltiamo? Dai, Lost Frequency, The Feeling e poi di nuovo qui dopo la pubblicità. 8 e 35 minuti, rientriamo dopo la pubblicità, sempre qui a parlare di Paralimpiadi con Alessia Berra, Paralimpica della Nazionale Italiana di Nuoto, che dicevi appunto, tu hai scoperto il mondo paralimpico a 20 anni, hai invece iniziato a nuotare all'età di 8 anni, tra parentesi possiamo dare questo piccolo cosa fuori onda, abbiamo scoperto che il tuo istruttore di nuoto, uno di tuoi istruttori di nuoto è un mio amico, abbiamo scoperto questa cosa qua, quindi un saluto a Elia, quindi salutiamolo. Il mondo è piccolo. Il mondo è piccolo, è Bucinasco, pescina appunto l'Azzurra, ma tutta questa storia tu la stai scrivendo e potremmo finalmente leggerla. Quando, come e perché, anche viene da dire. Allora, iniziamo dall'ultima domanda. Quando? A gennaio uscirà il libro che si intitolerà La criniera della Leonessa. Urca! Molto power. E perché? Perché io vado nelle scuole a fare testimonianza, visto che proprio nel 2016 sono andata a fare le prime Paralimpiadi, ma nel 2012 non sapevo neanche che esistesse il mondo paralimpico. Ok. Dopo aver visto le Olimpiadi avevo spento il televisore e quattro anni dopo mi sono trovata lì a farle e a dire cavolo esiste anche questo. Allora ho iniziato un po' questa missione di andare nelle scuole a dire ai ragazzi, ragazzi guardate che esiste anche questo mondo, quindi se conoscete qualcuno diteglielo perché quanti ragazzi ci sono che magari pensano di non avere possibilità, c'è un mondo apposta, adattato, dove uno riesce a sviluppare tutte quelle potenzialità che nel mondo reale, nel mondo della scuola e quotidiano spesso ci sono delle limitazioni. Nel mondo conformato mi permette di dire. Ok, esatto, meglio. Ecco così, dai. E quindi ho detto cavolo perché io ho due ore d'incontro quando vado nelle scuole, perché non raccontare di più, quindi scrivere la mia biografia dove per proprio mandare questo messaggio, come io ho affrontato le mie difficoltà, non sono una super atleta, un'eroina o chissà che cosa, sono una ragazza comune, mi sono fatta al mazzo e sono arrivati anche i risultati. E' un risultato che potremmo leggere finalmente nel tuo libro appunto da gennaio. E' molto interessante questa cosa dell'andare a testimoniare. Come reagiscono? Che scuole fai di solito? Di che grado? No, ho fatto di tutto, dalla prima elementare... Hai anche insegnato a scuola, mi dicevi giusto? Sì, sì, sì. Sono laureata in scienze motorie, ho insegnato tre anni. Come reagiscono nelle scuole quando appunto vi raccontare la tua storia, vi raccontare di questo mondo, magari appunto sconosciuto di più che il mondo paralimpico? C'è molto interesse, perché adesso quando chiedo chi è che ha visto le Paralimpiadi, sono sempre di più le mani alzate, quindi è sempre molto più bello. Sì, è stimolante, no? Stimolante, esatto. Anche perché significa che qualcosa sta davvero passando da noi atleti, da le gare e tutto. E' molto interessante perché quest'anno, diciamo prima, poi adesso ne entriamo un po' meglio nel discorso, di come forse una volta c'era un po' di pietismo nel raccontare la Paralimpiade. E appunto le disabilità erano quelle, la sede a rotelle, il bastone, si fermava lì non di più, e l'amputato, queste qua. Invece adesso finalmente si capisce che ci sono varie funzionalità all'interno del mondo paralimpico. Si cambia anche un po' il modo di raccontarlo appunto. Quest'anno abbiamo visto anche questa cosa del supereroe ormai sta un po' scemando, forse per fortuna, non so, chiedo a te. E anche molta ironia nel raccontare le Paralimpiadi quest'anno. Sì, sì, l'ironia è la cosa che ci caratterizza perché se non ridi te delle tue difficoltà, se lo fanno gli altri è un peso. Quindi è bello così, l'autoironia ti aiuta a prendere con più leggerezza la vita e raccontarti in modo diverso, nel senso io sono uguale a te, però guarda che cosa mi succede. In più ho notato un grande agonismo che è uscito fuori appunto dalle varie interviste, con molta gente che è rimasta un po' sconvolta da questa cosa di dire ma come, sono agonisti anche loro? Beh, sì, no? Cioè nel senso perché no mi viene da dire. Sì, noi arriviamo là per vincere, ci alleniamo come tutti. Il fatto è che ci si aiuta anche tanto, quindi se tu hai bisogno di una spinta te la do, se io ho bisogno che qualcuno mi legga qualcosa me lo leggono. Poi in vasca si azzera tutto e ognuno ha la sua corsia e si fa quel che si può. Devo dire molto belle le scene dell'apertura delle Paralimpiadi dove ci sono state ad esempio delle persone in carrozzina spinte da persone non vedenti, era bellissima questa scena, con la persona in carrozzina che diceva al non vedente dietro girati a destra che c'è la telecamera che ci stai prendendo. Quindi scene bellissime, devo dire, quelle sono state molto interessanti e ci fanno capire davvero di come questo mondo si sta entrando finalmente anche nel nostro mondo. Forse prima erano un po' troppi separati. Sì, esatto. L'inclusione è proprio quello che si sta cercando di fare perché se prima era sto due ore in acqua e mi sento bene ma le altre 22 ore del giorno mi sento emarginato, non posso fare educazione fisica perché non me la fanno fare, mentre adesso c'è più una sensibilità da parte del mondo e più integrazione, inclusione e solidarietà da parte di tutti. Andiamo con un po' di musica ancora e poi torniamo ancora qui con Alessia Berra, Paralimpica. Adriano Celentano con Amore No Remix 2024 si balla questa mattina qui su Crystal Radio. 331-7853-555, una sumo di Whatsapp, grazie a chi ci sta scrivendo, grazie a chi ci augura la buona giornata, grazie a Giulia che fa i complimenti ad Alessia, grazie mille, controchiamiamo gli auguri e complimenti, Giulia, anche per te. Ci sentiamo inclusivi, appunto. Allora, parlavamo di Paralimpiadi e di come adesso anche la carriera dell'atletta paralimpico è un po' più facile, ma nel senso agevolata dal fatto che finalmente fate parte anche voi dei corpi sportivi, delle varie armi divise, frecce gialle, azzurre, fiamme, fiamme, non frecce, frecce azzurre sono un'altra roba, frecce tricolore sono un'altra roba. Fiamme, tu sei fiamme azzurra, giusto? Sì, esatto. Che è il corpo dei... Polizia penitenziaria. Polizia penitenziaria, perfetto. Questa è la novità però del mondo paralimpico, giusto? Sì, 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 esatto. Dopo Tokyo i corpi militari si sono impegnati ad aprirsi e a rendere possibile il fatto di farci diventare atleti professionisti come tutti gli altri. Hai detto dopo Tokyo però. Prima di Tokyo non era così. Quindi tu mi stai dicendo che ti sei preparata all'Olimpiadi di Tokyo e quelle di Rio lavorando come comuni mortali ma facendo poi cose da paralimpica. Esatto. Cose da atleta. Eh, infatti, come funziona lì nel senso? Sì, sì, funziona che... Qual è la tua giornata tipo all'epoca? La mia giornata tipo, per esempio, prima di Tokyo io lavoravo a parte nelle scuole quindi durante l'anno, la mattina lavoravo a scuola poi mangiavo in mensa coi bambini, coi ragazzi e dopo andavo ad allenarmi e fare... quindi in acqua e poi in palestra. Mentre nel momento dell'estate lavoravo a un campus estivo facendo l'accoglienza la mattina poi mi spostavo e andavo a fare palestra poi tornavo al campus fino al pomeriggio poi tornavo in piscina a fare l'allenamento e poi basta crollavo perché... E me immagini, infatti quella era la preparazione atletica era già solo riuscire a giostrarsi tra un impegno e l'altro cioè qualcosa di... Adesso invece fai questo full time, no? Sei un atleta full time che significa... Oggi, ad esempio, ti stiamo rubando alla piscina oggi o alla palestra? Oggi sono in vacanza Ah, ok, quindi dopo le Olimpiadi vacanza Sì, un attimo di stacco Quando si ricomincia? Si ricomincia... Poi dipende da metà ottobre metà ottobre, dai, diciamo Ok, perché ci sono... Che cosa c'è in vista? A novembre ci sono già i campionati italiani in Vasca Corta Ah, ok E vuol dire che per i campionati italiani tu devi preparare in che maniera? Quale sarà la tua preparazione giornaliera? No, si comincia sempre subito due ore al giorno di acqua da lunedì a sabato e poi si cominceranno le palestre non so se saranno due o tre più il Pilates almeno per quanto mi riguarda Ah, per il Pilates Eh sì, perché ormai l'età avanza e bisogna curarsi Ecco, dico a tutti quelli in ascolto non basta però il Pilates non è che adesso avete detto Ah, lo faccio anch'io quindi vado alle Olimpiadi no, non basta solo il Pilates due ore di vasca al giorno dal lunedì al sabato cioè praticamente neanche i pesci nell'acquario fanno così tanta acqua mi viene da dire Sì, sì, si macinano i chilometri soprattutto a inizio stagione poi piano piano si va avanti e si va a lavori sempre più specifici per arrivare a preparare la gara Contate i chilometri che fate per caso? Sì, sì, sono Ah sì? No, beh, sono sei al giorno Voi fate sei chilometri al giorno quindi in realtà nella stagione fai migliaia di chilometri praticamente e poi quando ci sono in doppia sessione significa fare sei al pomeriggio la mattina, sei al pomeriggio 12 chilometri di nuoto al giorno Sì Bene, ecco, ho capito perché non farò mai l'atleta e non sarò mai in una vasca ma comunque Alessia io ti ringrazio tantissimo davvero di essere stato qui con noi grazie grazie anche di essere di aver portato comunque altra la bandiera della città metropolitana di Milano perché tu sei nata a Monza dove sei nata? Sì, sì, sono nata a Monza a Bucinasco vivi a Bucinasco credo giusto da quelle parti insomma quindi hai portato anche la bandiera di Milano in quella di Parigi e grazie davvero per tutto quello che hai fatto porto un saluto a tutto il restante della squadra che so essere bella tosta come dicevi insomma 24 metalli su 28 insomma dai 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 secondo me 28 su 28 ce la facciamo per farlo va bene tocchiamo tutto tocchiamo tutti i metalli possibili e immaginabili Alessia Berra grazie mille davvero devi tornare anche se sarai in allenamento quando esce il libro però certo volentieri ci devi venire a portare il libro va bene? va bene grazie mille Alessia andiamo con un po' di musica e poi torniamo per i saluti finali sempre qui in diretta su Crystal Radio Good Morning Milano vi ricordo anche il sito internet su cui potete ascoltare tutti i pezzi delle nostre interviste goodmorning.milano.it poi ovviamente ci sono anche i social ci abbiamo anche i link pensate che roba non ci manca solo come è che si chiama Tinder no quello non ce l'abbiamo però possiamo lavorare anche su quello se volete ci mancherebbe torniamo a far poco prima Cesare Cremonini la nuovissima sua appena uscita ora che non ho più te Cesare Cremonini alle 8.48 minuti Crystal Radio Good Morning Milano